Torna Musica per la Città a cura dei solisti aquilani, una rassegna dedicata all'Aquila con un programma artistico di tutto rispetto. 15 concerti che sono le principali produzioni dei solisti che poi porteranno in giro per l'Italia e per il mondo in vari cartelloni. Si parte il 23 ottobre per terminare il cartellone il 24 maggio. La particolarità è che gran parte dei solisti aquilani si esibiranno proprio da solisti. Noi presentiamo Musica per la Città 2024-2025. Sono 15 appuntamenti che rappresentano le produzioni più importanti, quelle più prestigiose che è giusto presentare nella nostra città dell'Aquila, ma sono quelle che poi porteremo in giro per l'Italia e anche all'estero, partecipando a festival nazionali e internazionali e all'interno di cartelloni delle più importanti società dei concerti italiani. Gran parte dei solisti aquilani suoneranno come solisti all'interno appunto di questa stagione, perché ricordiamo che i musicisti sono veramente di grandissimo valore, provengono da gran parte d'Italia, alcuni sono anche aquilani, quindi noi ci teniamo a far conoscere anche al pubblico aquilano il loro valore e la loro arte. Ma i solisti aquilani saranno protagonisti anche di vari appuntamenti per accompagnare sino al 2026 l'Aquila, capitale italiana della cultura. Nel 2025 ci sarà un grande concorso internazionale per direttori d'orchestra. Nel 2025, quindi oramai ci siamo quasi, andremo a ufficializzare un concorso internazionale per direttori d'orchestra di musica da camera che intitoleremo al maestro Vittorio Antonellini. Ricordiamo che nel 2025 saranno dieci anni dalla sua morte, quindi il premio sarà indetto nel 2025 per poi realizzarlo nel 2026 qui all'Aquila. Questo significa che circa 150-160 candidati provenienti da tutto il mondo, perché sarà appunto un concorso internazionale, vivranno qui all'Aquila per tanti giorni. E questo sarà ancora motivo per coniugare, per condividere l'arte musicale Italia e il resto del mondo. Grazie. 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 Grazie.